Negli ultimi anni le diverse regioni d'Italia si sono attivate per costruire dei modelli regionali per andare incontro alla cronicità. Abbiamo valutato lo stato dell'arte della regione Emilia-Romagna su questo piano regionale con il dottor Antonio Brambilla. Come si è evoluta la progettualità della cronicità in quest'ultimo anno in Emilia-Romagna? In quest'ultimo anno noi abbiamo sostanzialmente consolidato i principi che erano alla base della programmazione regionale in relazione alla presa in carico dei soggetti affetti da patologia cronica. Ci siamo orientati però molto di più sulla segmentazione della popolazione per rischio di ospedalizzazione attraverso degli strumenti che permettono di individuare i soggetti che necessitano di prevenzione primaria, di prevenzione secondaria. E tutto questo avendo come riferimento sul territorio le case della salute che per noi sono sia un momento di un luogo di erogazione dell'assistenza primaria dove per l'assistenza primaria però si intende anche la prevenzione, la presa in carico delle patologie croniche, le erogazioni specialistiche, il coordinamento delle attività anche domiciliari, un raccordo con gli ospedali di comunità. Quindi interventi di prevenzione primaria e presa in carico e di prevenzione secondaria. Che cosa avete sviluppato per la prevenzione primaria? In particolare sulla prevenzione primaria noi abbiamo sviluppato un progetto che sta dentro nel piano regionale della prevenzione oramai da tre anni circa e segmentiamo, andiamo a individuare una popolazione di riferimento, i maschi, la corte dei maschi di 45 anni e la corte delle femmine di 55 anni, naturalmente ogni anno viene arruolata una corte. La prevenzione primaria sta nel somministrare un questionario e la carta del rischio a questi soggetti che afferiscono alla Casa della Salute. La valutazione del questionario e della fascia di rischio viene fatta da un'equip che vede sia i medici famiglia che gli infermieri che gli specialisti e a seconda di quello riscontrato si fa poi un piano di prevenzione nei confronti del soggetto sugli stili di vita, su rischi evitabili, sulla familiarità, in buona sostanza si fa un'azione di prevenzione su questi soggetti che teoricamente non presentando accesso ai servizi dal punto di vista del consumo di prestazioni e di risorse, parrebbero privi di ogni problematica e quindi non meritevoli di intervento. In realtà noi stiamo sviluppando ormai da qualche anno, arruolando sempre più gente in più case della salute, questi soggetti per quanto riguarda la prevenzione primaria. E invece per quanto riguarda la prevenzione secondaria? Sulla prevenzione secondaria siamo andati non più, non andiamo più su una singola patologia ma andiamo sulla complessità, su soggetti affetti da multimorbidità che sono naturalmente più a rischio dei soggetti magari che hanno una patologia cronica però stabili. Quindi noi abbiamo elaborato un algoritmo, uno strumento che ci permette di selezionare queste categorie di pazienti e di organizzare degli interventi su di loro di tipo peraltro multiprofessionale e anche interdisciplinare e anche con il coinvolgimento del sociale. Di frequente noi raccogliendo l'analisi sociale su questi soggetti selezionati con questa modalità che ci permette di nome e cognome, chiamarli e fare medicina d'iniziativa, si individuano poi degli interventi anche di tipo sociale perché se un paziente diabetico scompensato vive da solo al quarto piano, chiaramente sto rappresentando una situazione estrema, però è più a rischio di un soggetto che magari ha meno problematiche di tipo sociale, non vive da solo e quindi ha qualcuno che si può occupare di lui. Quali sono le altre novità nella riorganizzazione del territorio? All'interno di questa riorganizzazione che abbiamo oramai dagli inizi, insomma, la riorganizzazione del territorio, sono circa dieci anni che ne migliorano, ci stiamo ragionando, si è accelerato tutto negli ultimi 4-5 anni, in particolare con questa nuova legislatura e abbiamo dato delle indicazioni alle aziende, oltre che di realizzare le case della salute, di incominciare a realizzare anche gli ospedali di comunità che sono tipicamente, come dice il famoso DM70 del 2015, 15-20 posti letto, gestione infermieristica, medici di famiglia che fanno attività clinica di supporto agli ospedali di comunità, all'interno di questo ospedale di comunità noi applichiamo gli stessi criteri del chronic care model, cioè della medicina d'iniziativa, andando a coinvolgere il paziente, coinvolgere il caregiver, facendo educazione terapeutica, naturalmente curando la patologia per cui questo soggetto si è ricoverato. Noi ne abbiamo realizzati 17, siamo sopra i 220-230 posti letto, nel nuovo piano sociale sanitario, sia il modello delle case della salute, quello degli ospedali di comunità e quindi delle cure intermedie, ha un focus importante e particolare, dando indicazione alle aziende di andare, e noi in questo momento sulle case della salute siamo sul 40-45% di copertura della popolazione di riferimento, sugli ospedali di comunità meno, siamo partiti però da un anno nella realizzazione degli ospedali di comunità, vorremmo realizzare un ospedale di comunità per ogni distretto, in realtà secondo me non sarebbe neanche sufficiente, perché sarebbero così 38 ospedali di comunità, ma probabilmente dovremmo in distretti grandi realizzarne più di uno, e case della salute che possano coprire il 100% della popolazione. Naturalmente il raccordo tra le case della salute e gli ospedali di comunità per risolvere sul territorio tutte quelle problematiche che non meritano di un ricovero presso un ospedale per acuti è una sfida importante per le cure primarie, per la medicina generale, per il comparto e tutte le aziende che hanno una vocazione territoriale, come peraltro nella nostra regione, oramai da alcuni anni è evidente.